allora ragazzi adesso testiamo i cosmo c1 su canale 1 i trasmettitori e sul canale 3 i miei occhiali adesso mando il rec la red posiziono il drone ok ok decolliamo e vediamo che succede poi misureremo pure a quanti metri siamo arrivati nessun problema qui nessun problema qui ho 40 ma è anche la zona poi farò un volo senza cosmo e vediamo come prendono andiamo agli altri dove dava problemi mi giro un po' 43 però vedo tutto a posto probabilmente hanno un po' sganciato andiamo nel bosco ok qui mi sembra ottimo il segnale adesso io che vedo proprio male dagli occhiali di G.I. addirittura provo a uscire di qua quindi ripeto canale 3 sugli occhiali a 50 megabyte e canale 1 su cosmo per tenere le frequenze più lontane possibili poi si può anche impostare a 25 megabyte per avere ancora più distanza però con la macchina e mezzo mi sembra ottimo ora non ho avuto proprio problemi abbiamo fatto due minuti di volo qui rientriamo nel bosco mi sembra tutto qua anche sono abbastanza coperto dagli alberi mi sembra perfetto ritorniamo facciamo vedere un po' l'ombra del drone ritorniamo su ecco qui ho fatto uno sgancettino ma è roba gestibile ma è più per gli alberi che per il trasmettitore e ritorniamo alla base eccoci qua la red registra tutto registra e siamo al top grazie a tutti